Il matrimonio deve essere basato sull'amore, sull'amore forte, fortissimo, proprio come il vostro. A mia sorella Marina, sì, sorella, perché con te ho pianto, ho riso. Sei sempre stato l'uomo di casa nostra, dopo papà. Hai un cuore paziente, generoso e altruista. Il tuo motto è, prima gli altri e poi io. Posso solamente ringraziare Dio del bellissimo dono che mi ha dato, perché per me sei un dono e sono sicura che sarai un marito e un giorno, anche un padre eccezionale. Marina è marina. Di avere lei per tutto il resto della mia vita, perché voglio che sia lei la madre dei miei figli, lei la donna che mi accompagnerà durante il mio percorso. Tandagosha sposte l'idea. Grazie a tutti.